l'ultimo carrello della vendemmia 2019 cantine belisario 16 ottobre 2019 finita la vendemmia abbiamo raccolto tutti i nostri quasi 200 ettari di vigneto è stata una vendemmia che ha risposto a tutte le previsioni come sarà il vino quello che abbiamo detto ci sono tutte le prerogative per essere una grande annata perché c'è lo zucchero ci sono gli acidi organici i ph era da tanto che non si vedevano ph così buoni dei loro valori intorno a 3 3,1 massimo un buon contenuto di sostanze ozzotate un bellissimo estratto secco ben sali minerali ci sono tutti i presupposti per essere un grande verdicchio forse questo è un anno che può fare disegno di come la tradizione sia veicolata tramite l'innovazione il controllo dei momenti vendemmiali le curve di maturazione l'uso della vinificazione riduzione le analisi microbiologiche le analisi dei mostri tutte attività di alto valore scientifico tutte messe in campo esclusivamente per migliorare la qualità sensoriale dei vini per migliorare la genuinità che non significa vini fatti senza far di nulla ma significa vini fatti bene quindi genuini perché vino è piacevolenza il vino non è un alimento ma è un divertimento questo è quello che belisario da ricerca di fare l'innovazione